Fratelli e sorelle, che Dio vi benedica e che Dio benedica anche le persone che in questo momento stanno ascoltando questa riflessione, una riflessione che vuole insegnare a vivere la vita in un modo piacevole, gradevole, sia per noi stessi che per il nostro prossimo. Mi hanno fatto tante domande e tra queste mi hanno chiesto di parlare della prudenza. Che cos'è la prudenza o cosa significa essere prudenti? La prudenza è agire e parlare facendo tanta attenzione, in un modo giusto e adeguato, con tanta cautela, agire e parlare con moderazione, con previdenza, con riflessione. Bisogna essere cauti in quello che si dice e in quello che si fa. Questa è la prudenza, affinché si evitino le conseguenze funeste che possono produrre offese, danni o difficoltà o possono causare degli inconvenienti, del male, dei malintesi nei confronti delle altre persone. Perciò, prima di agire, prima di parlare, dobbiamo tenere in considerazione tutti questi elementi e pensare di non offendere nessuno, di non fare danno agli altri, perché noi magari stiamo parlando alla leggera o stiamo agendo in un modo superficiale. Dobbiamo sempre meditare, dobbiamo usare sapienza, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo pensare prima di parlare. Questa è la prudenza. Un uomo e una donna prudenti sono considerati delle persone intelligenti, che ragionano, sono delle persone sapienti, che fanno le cose in un modo giusto, agiscono con intelligenza, sono delle persone equilibrate, che non si affrettano nel parlare o nell'agire, perché stanno attenti a non offendere gli altri, stanno attenti a non fare del male alle altre persone per poi doversi pentire. Sono anche delle persone che prevedono le conseguenze di quello che loro dicono o di quello che loro fanno in futuro. Queste persone prudenti agiscono anche con tanto discernimento. Loro distinguono il bene dal male. Distinguono in quale momento si può parlare e in quale momento non si deve parlare, perché non tutti i momenti sono propizi per parlare o sono propizi per agire. Questa è la prudenza. Perciò una persona deve avere il discernimento per distinguere il giusto dallo sbagliato, le cose corrette da quelle scorrette. Questa persona deve agire in un modo moderato, nel suo parlare, nel suo pensare. E noi, nella Bibbia, abbiamo tanti esempi. Per esempio, in Matteo, capitolo 10, verso 16, qui il Signore Gesù Cristo dice agli apostoli di andare a predicare la parola in tutto il mondo. Ma diceva loro di essere prudenti come un serpente. E che cos'è che fa un serpente? Un serpente non attacca se non è attaccato. Un serpente rimane quieto, quieto aspettando che qualcuno lo attacchi, gli faccia del male. Se il serpente è attaccato, allora lui si difende e attacca. Ma non lo fa prima. Anzi, aspetta. A volte persino fugge. Questa è la prudenza del serpente. Quindi, il Signore Gesù Cristo diceva agli apostoli, voi dovete essere molto prudenti, come un serpente. Siate saggi, umili. Agite con sapienza e vedrete che tutto vi riuscirà bene nella vostra vita. Agirete per bene e sarete riconosciuti, applauditi ed ascoltati. Pertanto, una persona prudente è molto apprezzata nella società, nella comunità, nella famiglia, nel lavoro, nello studio, negli affari. Una persona prudente è molto apprezzata. E noi dobbiamo imitare quelle persone che sono molto prudenti. Poi c'è un altro esempio nel primo libro di Samuele, capitolo 16, verso 18. Primo libro di Samuele, qui si sta parlando di Davide. Davide fu contrattato da un domestico del re Saul. Il re Saul, in quel momento della sua vita, era perturbato da spiriti malvagi. Allora chiamarono Davide perché suonava l'arpa. E il re Saul si tranquillizzava quando sentiva Davide suonare l'arpa. E nel 18 dice, allora uno dei domestici prese a dire, ecco io ho veduto un figlio di Isai, il Betlemita, che sa suonare bene. È un uomo forte e valoroso, abile nel combattere, eloquente nel parlare. Vedete? Davide era eloquente, era prudente nel parlare. Quindi questo domestico lo raccomanda, raccomanda Davide affinché venga portato davanti al re per farlo calmare. Perciò Davide era prudente nel parlare. Lui non parlava in vano. C'è un detto che dice dare fiato alla bocca. Lui non dava fiato alla sua bocca. Anzi, pensava prima di parlare, affinché nessuno si potesse offendere a causa delle sue parole, a causa magari del suo parlare o agire alla leggera. Sempre nel primo libro di Samuele, capitolo 18, verso 5, dice, Davide andava ovunque Saul lo mandava. Vuol dire che Saul inviava Davide a fare tante commissioni. E Davide faceva tutto quello che Saul gli diceva e lo faceva in un modo così prudente che il re Saul lo fece diventare sovrintendente dell'esercito. E superò anche i figli del re Saul. Perché? Perché Davide agiva prudentemente. Lui parlava e agiva con prudenza. Agiva con prudenza, quindi. E tutto quello che faceva gli riusciva bene, perché lo faceva con sapienza, con sensatezza, con un'intelligenza. Perciò il re Saul aveva fiducia di Davide. E anche noi dobbiamo tenere in considerazione tutti questi dettagli, tutti questi elementi, affinché la nostra vita quotidiana e personale possa essere piacevole, gradevole, senza fare del male a nessuno, senza offendere gli altri. Anzi, che gli altri vivano dell'esempio che noi diamo loro. Io vi consiglio di leggere la Bibbia e di imparare, perché la Bibbia ci insegna ad essere molto prudenti. E chiediamo al Signore affinché Lui ci dia la prudenza, sapienza, conoscenza e così essere felici e far felici gli altri. Che Dio vi benedica tutti. Andate avanti. Grazie a tutti.